Cardiopalma, diciamo, finale, ma era la coppa che ci mancava per chiudere un cerchio di due anni, era l'ultima, quella che ci mancava, la volevamo a tutti i costi, risultato stavamo perdendo 1-0, serviva il carattere, questa squadra c'è solo carattere, ragazzi, veramente ce l'ha da vendere, questi ragazzi non mollano mai, spero che abbiano preso da me qualcosa almeno, merito tutto loro, tutto loro veramente e di chi non c'era anche stasera perché purtroppo tra infortuni e lavoro qualcuno ce lo siamo perso stasera, io gliela dedico a tutti quanti, a tutta la squadra, hanno fatto un'annata credo irripetibile. Adesso andiamo a fare i finali a Lignano-Sabbietoro, proviamo a mantenere il titolo di campioni che abbiamo preso l'anno scorso a Manfredonia, sarà difficilissimo ma, ripeto, con un cuore così è difficile per tutti gli altri.